vediamo adesso come poter creare da zero una nostra DOP dedicata al Pyro per prima cosa abbiamo bisogno di una sorgente che sia convertita in polygon altrimenti non sarà possibile per Udini andare a realizzare un volume in realtà sarà possibile ma richiede un po' di workaround presto capiremo anche perché ad ogni modo ci creiamo una sfera e la convertiamo in polygon successivamente andiamo a crearci un operatore chiamato PyroSource il PyroSource è stato introdotto nelle ultime release di Udini se non erro dalla 16 ed è un sistema che consente di generare e convertire la propria geometria in punti e dal tempo stesso di creare determinati attributi in base alle necessità vediamo infatti che esso ci dà già a disposizione delle scelte per generare una sorgente Fuel, Smoke o Color e di conseguenza di andare già ad impostare per noi dei parametri o comunque degli attributi notiamo che possiamo limitare tale effetto ad un gruppo specificando, non propriamente legato al nome del gruppo ma legato alla tipologia degli input quindi se Primitive, Points, ecc. dal drop-down menu Mod invece possiamo scegliere come vengono distribuite le Particles sulla nostra sorgente se mantenerle come di default Keep Input o se effettuare uno Scatter Surface o Volume possiamo impostare la separazione delle Particles e la dimensione e successivamente associarne degli attributi se infatti andiamo a scegliere ad esempio una Source Smoke vediamo che Udini genera in automatico degli Attributes di Density e Temperature notiamo anche che gli stessi attributi possono essere differenti ed aggiunti, sottratti o modificati in base alla nostra necessità se volessimo aggiungere un attributo di Velocity ci basterà cliccare sul tasto più e poi definirne il comportamento scegliendo dal menu a discesa o impostandolo manualmente Viceversa, sul pulsante Meno gli attributi verranno sottratti dal basso verso l'alto La stessa operazione di creazione e cancellazione si può fare cliccando sull'icona degli attributi se già presenti con il simbolo X e più rispettivamente il rosso e il verde Gli attributi che andiamo a generare possono essere di due tipologie scalari o vettori Gli scalari sono coloro che vengono definiti da un valore intero o con la virgola quindi Integer o Float in Udini come Density, Temperature, Fuel ed Alpha di quelli presenti nella lista a disposizione I vettori invece sono definiti su tre assi X, Y e Z come Color e Velocity di quelli presenti appunto nella lista In pratica, che cosa andrà a realizzare questo operatore che è un operatore SOP? Prenderà il nostro input applicherà uno scatter point associando una separazione delle particles ed una dimensione Ad ognuno di essi sarà applicato uno o più attributi creati successivamente che ci consentiranno di andare a definire il comportamento nella nostra sorgente del pyro La stessa operazione si potrebbe andare a realizzare manualmente con gli operatori SOPS già incontrati nei corsi precedenti come lo scatter l'attribute create o con due linee di vex in attribute wrangle o con il sistema di vops ma è molto comodo avere un nodo che ci semplifica la vita andando a racchiudere per noi queste stesse operazioni in pochi passaggi o con due linee di vex o con due linee di vex o con due linee di vex grazie a tutti